Ai! Serafino! Ma quanto ci mettete? Serafino! Eccomi! Ti ho portato una limonata calda. Ma che diavolo ci avete messo in quella minestra? Maria Vergine, tutta cosa vuole. Ho messo patate, fagioli, codiche di maiale. Mamma mia che dolore! Vi prego, vi prego. Aia! Grazie. Te la metto qua? Grazie. Vi prego, non ce la faccio alzarmi da solo, sto malissimo. Datemi una mano, vi prego. Grazie Serafino, siate un bravo uomo. Au! Au! Femati! Femati, ma cosa fai? Un bravo uomo un po' fesso. Ma sei matto? Ma cosa vuoi fare? La rivoluzione, vecchio mio. Aria Vergine, che Dio ti protegga. E adesso cosa dico al Cardinale Colombo? Ah, buonasera. Il Signore sia con te, fratello. Come mai non sono venuti i frateliggio e quell'altro frate secco? Eh, poveri fratelli. Sono stati colti da una terribile dissenteria. Si vede che avevano mangiato troppo. Entrate, forza. Grazie, fratello. Grazie. Grazie. Serafino! 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 Ma dove sei cacciato questo? Serafino! Sei in cucina? Sarà mica in cantina. Serafino! Meno male che siete ritornati. Ma che è successo? È successo che il vostro figlio è un delinquente. Ha fatto finta di star male. Io ci sono cascato e invece lui da carogna mi è saltato addosso. Non c'è tempo da perdere. Vai subito da Maria Tognetti, la fruttarola, la fruttivendola, vai! E vedi se sta lì. Vai, sbrigate! Oh, signora. Ma questa è la pianta del carcere. La pace sia con voi, cari fratelli. Prima di iniziare c'è da dare l'estrema unzione a un povero carcerato che è scivolato e abbattuto la testa. Lo sappiamo. Qua si scivola spesso. Mi riconosci? Tu, tu, apri le salle di Monti e Tognetti, se no a questo lo scappa. Muoviti. Cesare! Bravo, Cesare! Ibrigati, peccile, vai! Vai! Vi prego, non fatemi del male. Sta zitto, bella. Apri! Apri, dai! Monti ci aiuta a te, bastardo. Vabbè, ma che sta succede? Succede che scappavo. E dai, allora, dai, dai! Guardie! Guardie! Sbrigate, beh! Stanno scappando! Beppe! Gaitaro! Non mi lasciate qua! Claudio! Pensaci bene, dai! Vai ad aprire il mastro piede! Sbrigate, perché qua le guardie possono arrivare da un momento all'altro, dai! Alfermi! Claudio! Pietro! Pietro! Scappate! Non c'è stata la speranza! Sbrigate! Spermi! D'arco, non potete scappare! Sbrigate, non andiamo, muovetevi! Ma queste catene ai piedi non ce la possiamo, ma questi ci ammazzano! Non ti preoccupare per non ci scappare! Lasciatelo scappare! Esto! Ma lasciatelo scappare! Non vi muovete! Fermo tu! Non mi spara! Dami quel fucile! Corcavo! Sai come ti dice, per l'amor del cielo? Dagliela! Fierda! Fermi! Che fai lì impalato? Te fai lì impalato! C'è lì! Alta! È andata male, Terè! Namo! Sì! Namo! Sì! Corri, Terè! Corri! Resiste, Terè! Terè, coio! No! Ferma! Cesare! Cesare! Ma che è successo? Prendetevi cura di lei, vi preghi! E tu dove vai? Con Garibaldi vado! Dio misericordioso! Sai presto! Andor sta! Hai scappato di là! Di là! Andiamo! Vai! Cerchiamo da questa parte! Come ti senti? Mi mancano le forze! Tiè! Mettici questo! Premi forte! Poi ti porto da un medico! Che dite, io la farò? Sì, sta tranquilla! Non mi sembra una cosa grave! Ma io non c'ho paura per me! Io c'ho paura per il bambino mio! E te Cesare! Per bambino! Anna, ma bene! Ti è te nella finestra E faccia a pella Petto di latte e buco Inzuccherata Che io te la voglio farla serenata Te la voglio suonare La tarantella Grazie a tutti